Comandante, sta prendendo il via la nuova stagione estiva, purtroppo ieri a Vasto c'è stata la prima tragedia in mare. Più che mai d'obbligo le raccomandazioni della direzione marittima Abruzzo e Molise per i bagnanti, ma per tutti quelli che frequentano il mare. Sì, in effetti ieri c'è stata una seconda tragica, un secondo tragico evento dopo quello di Ortona. Fermo restando il riservo delle indagini in corso, però ovviamente possiamo dire che si è trattato di annegamenti per i quali è opportuno dare dei consigli. Comandante, tornando all'estate, alla stagione che verrà, quando si fa il bagno in mare, quali sono le precauzioni da prendere? Sì, ovviamente andando a interloquire con il bagnante di tutti i giorni, la prima cosa da consigliare è le proprie condizioni fisiche. Ovviamente non immergersi quando si è consumato un pasto prima delle tre ore, oppure se si è fatto una colazione così fugace un paio di ore. Inoltre, se si fanno le immersioni, non fare più di un paio di ventilazioni, se no si va in iperventilazione. Ancora, si ricorda che la fascia di 200 metri è riservata ai bagnanti e quindi in questa fascia non deve essere occupata dai natanti. Viceversa, i bagnanti poco esperti devono guardare le boe bianche che indicano le acque sicure, dove appiedano, e quindi magari limitarsi a stare in quelle acque. Il primo consiglio, sia rivolto ai più esperti che ai meno esperti, mi sento di dover consigliare la massima prudenza e il buon senso. Grazie mille! Grazie.